Questa occasione di incontro tra gli imprenditori di Alcinpredil e il mondo degli investitori istituzionali nel real estate è stata estremamente interessante perché è stata l'occasione di dire che c'è una grande opportunità di crescita ancora da perseguire da parte del mondo degli investitori che hanno capitale a disposizione e del mondo dei costruttori che possono essere coloro che originano operazioni particolarmente su Milano che in questo momento è nel radar screen degli investitori anche internazionali che hanno già investito grandi capitali e prevedono investirne altri 13 miliardi nei prossimi anni. Quindi per fare questo occorre però che vengano adottati questi parametri operativi internazionali che richiedono la capacità di investire in nuove tecnologie che sono sempre più necessarie. La tecnologia sotto questo punto di vista è un grande vantaggio. Come al solito il coglierlo è uno dei doveri dei soggetti che operano nel settore e potrebbe essere una grande opportunità. Il panorama italiano è sovraffollato di imprese virtuose ma che non hanno ancora una consistenza dimensionale sufficiente. Dobbiamo renderci conto noi imprenditori che l'imperativo del panorama economico italiano è proprio quello della crescita che può presupporre processi aggregativi o alleanze strategiche anche con questi grandi investitori che ci sono sul mercato. I cambiamenti in atto nella società demografici, lavorativi, la tecnologia comportano nuove esigenze, maggiore flessibilità, nuove abitudini e tutto questo è una grande opportunità per chi si occupa di settore immobiliare. Milano ha dei grossi vantaggi competitivi da un punto di vista economico, da un punto di vista del tessuto demografico nel senso che è una città che cresce, è una città che attira, è una città internazionale ma è anche una città che ha dimensioni non così grandi e non ha le controindicazioni che hanno certe metropoli europee. Se il mondo investitori è pronto a portare capitali ci aspettiamo ovviamente che gli imprenditori possano mettere sul campo competenze sia dal punto di vista della progettazione e costruzione sia dal punto di vista poi della gestione degli asset. Dobbiamo noi imprese associate ad Assi Impresi ma in particolare tutto il mondo delle costruzioni italiano cercare di recepire questa sfida perché se non lo facciamo noi qualcun altro colmerà il gap e coglierà queste opportunità.